ben ritrovati amici ma soprattutto amiche dello spallino.com la nostra diretta arriva all'appuntamento numero 22 torna dopo due settimane perché sette giorni fa c'era Perugia Spall e quindi non avevamo modo di collegarci se non in tarda ora ma era già stata una lunga giornata per tutti quindi ben ritrovato Leo Biscuola ciao ciao a tutti ben ritrovati e non c'è Martina Politti perché ha avuto una brutta giornata al lavoro quindi la salutiamo e diciamo forza Poli e allora caro Leo intanto mi arriva un messaggio di Buzzo in privato mi dice che non può essere socievole perché Facebook l'ha bloccato per 30 giorni quindi Facebook è più permaloso di Viviani però vi seguirò come sempre grazie Buzzo per questo aggiornamento saluto chi si sta collegando e chi sta commentando Stefano, Elena, Mattia, Carlo in realtà ciao Paolo in realtà quando ci sono le soste ci fermiamo anche noi però abbiamo detto ci siamo fermati anche mercoledì scorso non ci sembrava proprio la cosa più intelligente da fare restare a tre settimane di distanza da una punta dall'altra quindi abbiamo comunque un po' di cose di cui parlare perché questo weekend ci sono le partite grazie al cielo almeno respiriamo un po' dopo un mese e mezzo in cui si è giocato praticamente sempre no perché è difficile per i giocatori Orla però anche per noi è obiettivamente una discreta sfaticata sì è più complicato per loro sì più complicato per loro però poi con questi orari del piffero sei e mezzo del mercoledì e robe del genere cioè veramente una settimana di sosta non fa male ciao Andrea dice Buzzo sfigato e poverete è stato bloccato cosa vogliamo fare e dicevo non mancano le cose di cui parlare perché comunque mancano sette partite alla fine la spalla sette punti di vantaggio sull'Alessandria che a seconda dei punti di vista mancano solo sette partite alla fine e questo è proprio il punto eh sì ma infatti stavo dicendo a seconda dei punti di vista sette punti di vantaggio sull'Alessandria possono essere tanti o pochi quindi sono tanti o sono pochi? io spero che siano sufficienti alla luce di quello che hai visto sabato sono sufficienti per arrivare al traguardo senza arrancare? allora se io dovessi scommettere 5 euro tuoi probabilmente che non ti devo perché fino a poco tempo fa te li dovevo esatto ho dato i miei debiti mettiamo che debba scommettere 5 euro tuoi io mi sentirei giocarli sulla sabetta insomma non tanto per quello che sta facendo vedere la spalla perché una partita è così, una partita è colà quindi se c'è un difetto anche alla spalla quest'anno è sicuramente la discontinuità la mancanza di un minimo di continuità sotto tanti punti di vista mi sento un po' tranquillo perché guardo anche gli altri non mi sembra che dietro si corra a velocità impressionanti c'è Vicenza che sta risalendo Vicenza è vero sta risalendo però comunque viene da un campionato disastroso anche lei quindi vuol dire che qualche problema ce l'ha l'ultima partita hanno perso praticamente tutte si sperava che la SPAL potesse sfruttare quelle che erano le possibilità che aveva però nonostante io ti dica la partita con la Cremonese per me la SPAL se l'è giocata io non ho visto il divario tra del classico non testa a coda però insomma una squadra che lotta per la promozione diretta è una che evita di entrare in zona rossa non mi è sembrato ci fosse tutta 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 questa differenza anche perché la SPAL ha giocato benone poi ci sono sempre i soliti errori un'ingenuità un qualcosa che si poteva far meglio e poi orla quando cominci la partita su 1-0 praticamente perché dopo 3 minuti hai preso il gol su rigore è difficile poi contro la Cremonese che comunque dal velo difensivo è stata quasi perfetta e mi sento di dire che quel Ocoli e Sernicola un po' di invidia alla Cremonese io l'ho provata considerando che erano qui non più tardi qualche mese fa in circostanze particolari però insomma avrebbero fatto comodo quest'anno allora due cose parto dal fondo Ocoli e Sernicola secondo me sono due dimostrazioni che forse Giorgio Zamuna non è il pirla che viene descritto da alcuni tifosi che dicono ah ma prende solo dei giocatori marci o buoni dal niente no evidentemente i due sanno il fatto loro fermo restando che sono profili diversi perché Sernicola comunque è un 97 con il giocatore fatto e finito ormai mentre Ocoli è un 2001 che è sotto controllo dell'Atalanta e che probabilmente può migliorare ancora e diventare un gran bel difensore se continua a promettere ciò che anzi se mantiene ciò che sta promettendo in questa fase della sua carriera mi è sembrato anche strutturalmente migliorato anche a livello di fisico rispetto a quando era Ferrara non che fosse magro oppure però comunque mi è sembrato ancora più impostato insomma in quel ruolo lì è una qualità non da poco e sai comunque lui veniva da un campionato di B con un buon numero di presenze non era un titolare fisso però comunque si era già intravisto qualcosa questa stagione e questa stagione è in corso sta confermando tutto ciò che c'era sembrato di buono su di lui per quanto riguarda invece i discorsi della partita io mi aggancerei all'analisi tattica che abbiamo pubblicato oggi sullo spallino invito a leggere quella di Sergio Restano il nostro match analyst perché come hai detto tu Leo quel rigore all'inizio ha cambiato tutto perché ha permesso alla Cremonesi di fare la partita che preferisce fare cioè messi bene dietro e senza bisogno di manovrare granché palla lunga e pedalare in sostanza e lì la spalla non ha trovato contro misure un po' perché la Cremonesi quando fa quel tipo di partita lì è una squadra molto efficace e due perché ovviamente quando ti mancano alcuni dei tuoi uomini di maggiore qualità di maggiore personalità trovare un piano alternativo non sempre è la cosa più facile perché uno dei piani della SPAL si è capito ormai conventurato è riconquistare palla velocemente in zona d'attacco e provare a far male in transizione non c'è mai riuscita la SPAL contro la Cremonesi se vai sotto dopo tre minuti per un rigore che allora qua ne abbiamo discusso secondo me è un rigore un po' generoso è un rigore da standard arbitrali contemporanei cioè è un rigore che forse dieci anni fa quince anni fa non lo davi perché ok la Tela si gira non è furbissimo però dai è questione di approccio abbiamo il confronto diretto con le partite di Champions che si stanno giocando in questi giorni o che si sono giocate nei giorni scorsi in ambito internazionale gli arbitri hanno un altro approccio non fischiano praticamente nulla e se fischiano fischiano poco è tutto è tutto in linea diciamo l'equilibrio regna su quella su quella tacca lì qui invece ci sono partite l'ultima che abbiamo visto anche insieme al Mazda la penultima in cui commentavamo che veramente di minuti giocati saranno stati la metà del tempo effettivo perché del tempo di gioco volevo dire io mi sento di dire Orla che per quanto possa non provare particolare simpatia per Pairetto insomma questa è una cosa personale esatto che non significa nulla io penso che il gesto che ha fatto la telata allargando la gamba secondo me il rigore ci poteva stare o meglio come dicevamo anche in altre sedi come ti diamo un punto di vista in un momento nel quale il VAR determinante in queste situazioni secondo me non potevano dire che era un chiaro errore dell'arbitro perché non c'era un errore dell'arbitro perché la telata allarga la gamba è un gesto è un gesto oggettivo cioè c'è poco da fare poi che potessi stare in piedi siamo d'accordo ma stiamo anche parlando di un giocatore esperto come Zanimacchia insomma non so io io non me la sento di dire che di gridare allo scandalo per quelle guerre lì ecco sì no non stavo gridando allo scandalo lì per lì però ho pensato vabbè noi stiamo sti rigori qua ne diamo 4-5 partita Giorgio dice forse dimenticate il gol di volato da Melchiorri ma nessuno lo dimentica semplicemente stavamo facendo un'analisi e non avevamo ancora menzionato questo aspetto ovvero che Melchiorri con un po' più di precisione poteva segnare l'1-1 già nel primo tempo magari la storia sarebbe un po' cambiata che poi a me la spalla non è mica dispiaciuta complessivamente per quelle che erano le sue condizioni complessive quella con la Cremonese è stata la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro Lascoli che quella è stata un po' sfortunata ma è stata la settima sconfitta in casa della stagione e come ho evidenziato ieri in un articolo è un record per quanto riguarda la spalla in serie B perché in 23 campionati di B non era mai successo di perdere 7 partite in casa non è un record assoluto perché le 13 della stagione 19-20 penso rimarranno no penso rimangono ineguagliati in questa stagione perché ne mancano altre 3 puoi arrivare solo a 10 vediamo che tra tanti altri anni perché sinceramente perdere 13 partite su 19 in casa insomma però Leo volevo capire dal tuo punto di vista su questa cosa perché nell'articolo mi sono beccato anche delle critiche di gente che dice ma sì chi se ne frega il fattore campo non esiste praticamente più non cambia niente l'importante è fare bene io non sono d'accordo cioè non voglio fare il il nostalgico del fattore campo che è la nostra casa però se una squadra fa pena in casa io credo che ne risenta anche il pubblico poi alla fine tra l'altro credo che per i giocatori stessi vincere in casa fare bella figura in casa sia importante perché poi è lì che la gente viene a vederti è lì che la gente ti segue che ti incita di più e quindi vorrei capire tu come la vedi ma io probabilmente in maniera un po' più fredda nel senso che in una il calcio è cambiato tantissimo è cambiato come le persone vivono il calcio una volta parliamo senza andare a guardare in casa da altri ma qua da noi la partita la si vedeva allo stadio e basta qualcuno andava in trasferta sto parlando della maggior parte delle persone chiaramente non una parte del gruppo del tifo organizzato che la vedevano tutte le domeniche o i sabati e lo si ascoltava tramite la radio tramite Sovrani quindi è chiaro che una volta il giocare in casa giocare bene in casa ti dava un po' il polso di quella che era la situazione ora mettiamoci anche la pandemia mettiamoci un sacco di cose mettiamoci che il calcio è fruibile in maniera estremamente semplice dagli smartphone sotto ogni punto di vista secondo me che i punti tu li fai in casa o che li fai fuori cambia poco io sono di quell'idea lì al di là degli stadi chiusi dei fattori campo che come nell'articolo che hai giustamente scritto è un fattore che va sempre via via diminuendo come a livello di impatto il giocare in casa io penso che un tifoso medio della SPAL che segue diciamo l'80% delle partite che sia in casa o fuori che sia alla tv o allo stadio comunque un'idea della prestazione della squadra ce l'ha ecco non è come una volta che tu la vedevi solo lì poi dicevi chissà fuori che cosa faranno sinceramente di questo tempo abbiamo parlato tantissimo anche durante la serie A le prime partite senza pubblico ci chiedevamo perché la SPAL facesse bene fuori bene poi facesse meglio fuori e facesse pena in casa questo lo possiamo dire io non ho ancora trovato una spiegazione logica e razionale oppure non so neanche se esista a dire la verità perché ce lo siamo chiesti mille volte penso anche all'interno di queste dirette non lo so io penso che comunque tornando al punto iniziale anche se giochi bene fuori in casa vai così così tutto sommato fa lo stesso insomma l'importante è che alla fine tu centri gli obiettivi che ti devi raggiungere se quest'anno la salvezza la raggiungi solo su trasferte vinte mi sento di dire che va bene insomma ma beh è chiaro certo conta sempre prima l'obiettivo generale di quello particolare non dico quello però fare una stagione in cui perdi 7-8 partiti in casa su 19 vuol dire quasi la metà penso che non so ti tolga qualcosa anche a livello proprio di morale di sicurezza di motivazione di entusiasmo e qualcosa in termini di pubblico dico questo ecco sarebbe bello avere una squadra che in casa riesce anche a fare il risultato importante magari a vincere contro la squadra più forte proprio in funzione del fattore campo forse ora c'è anche un problema di personalità quello che andiamo dicendo un po' da tanto tempo giocare in casa significa giocare davanti alle persone che conosci probabilmente i familiari che ti vengono a vedere quelli che possono che abitano qui vicino sono tutti fattori che psicologicamente influenzano il fatto di avere le persone che ti sostengono che ti guardano fisicamente in trasferta se la SPAL in casa ha fatto così pena e in trasferta ha fatto meglio vuol dire che forse è una squadra che sotto il punto di vista caratteriale qualche problemino ce l'ha io riguardavo un po' di numeretti la squadra che che ha conquistato la maggior parte dei punti in casa rispetto ai totali è il Monza cioè che ha fatto il 63% di vittorie in casa delle totali o meglio il 63% dei suoi punti li ha fatti in casa tra quelli che ha fatto in totale e le prime della classe sono tutte sopra il 50 tranne il Brescia che va meglio fuori che in casa e un altro esempio è l'Ascoli che fa più punti fuori che in casa in fondo alla classifica Leo mi incuriosisce questo dato che se tu prendi le ultime 6 di cui la SPAL fa parte Alessandria Vicenza Cosenza Crotone Pordenone sono tutte sopra il 60% di incidenza di punti in casa rispetto ai punti fatti la SPAL è al 47 meno del 47 non so cosa pensare con questi numeri però è un elemento è curioso è curioso senza altro non lo so però come in c'è un primo secondo me una spiegazione vera non c'è ecco però vedi dice Lorenzo non credo che il pubblico di Ferrara sia entusiasta di perdere sempre e Cristian dice farsi prendere per i fondali dagli ospiti in casa tua non è il massimo perché quando i giocatori della Cremonese sono andati sotto il loro settore a cantare ballare è vero che magari metà del pubblico di Ferrara ha già sfollato però comunque non è stata una bella scena vedere gli altri che festeggiano in casa tua comunque detto questo l'età codichiarazioni perché Joe è tornato dopo un mese praticamente perché aveva visto Vicenza Spal poi è tornato negli Stati Uniti per questioni di business e ha visto una sconfitta e vabbè tanto non ha mica fatto il conto delle partite che lui ha visto e qual è l'andamento con o senza Tacopina dovevi fare una cosa di genere questionando l'andamento in casa secondo me se continuiamo il 5-0 in cui Tacopina con Tacopina e Pat Carroll lì c'era la 5-0 con Tacopina e Pat Carroll poi il resto sono andato ne hai viste tante anche fuori però comunque tu eri allo stadio io no tu eri lì a un metro quando già Tacopina è passato in tribuna stampa a rilasciare quelle dichiarazioni e diciamolo a beneficio di chi ci sta seguendo se è stato tuo a dirgli Presma avevi detto playoff qua mi pare che siamo un po' lontanucci come interpreti le sue dichiarazioni perché a me ha causato un po' di sorpresa tutto questo riferimento al futuro cioè dobbiamo decidere chi farà parte della squadra al prossimo anno più che sul presente ma allora intanto va detto che è il momento in cui io che ero cominciato un metro da lui ma forse anche meno gli ho cominciato a formulare la domanda lui aveva già capito dove voleva andare a parare mi guardava come dire ok falla dimmi e togliti dai maroni no non è vero in realtà credo che in qualche modo lui abbia anche apprezzato l'assist per poi parlare di questo perché della partita era incazzato e questo è evidente è arrivato insomma ha fatto capire ad Ampi anche con la mimica del corpo la mimica facciale che insomma non era esattamente contento anche se ha detto che non era sorpreso che la cremonese fosse lì che era una grande squadra non hanno preso bene quelli della cremonese infatti eh sì però insomma comunque questo è il gioco delle parti io non sono sorpreso di quello che lui ha detto di quello che ha detto mi è sembrato una persona che volesse voltare pagina una persona che non vedesse l'ora di finire questo campionato sinceramente perché se ha sette punti dall'Alessandria sette partite dal traguardo parli già del prossimo campionato lui ha anche aggiunto insomma dicendo che sì purtroppo deve parlare del prossimo perché di questo c'è poco da dire non so ora perché tu sia sorpreso sinceramente di quello che ha detto perché la salvezza mi sembra tutto meno che acquisita mi sembra un po' presto per dire vediamo il prossimo anno facciamo questo facciamo quello ah beh certo però se mettiamo questa dichiarazione in linea con tutte quelle che ha detto non è una dichiarazione fondamentale ecco vi racconto questo episodio perché insomma noi che eravamo lì ha fatto abbastanza sorridere chiaramente noi facciamo le domande o in italiano o in inglese dipendeva e poi c'era la Bon che faceva da traduttore a Tacopina insomma per riportare le dichiarazioni in italiano e Tacopina nella circostanza in cui diceva contro Alessandria ad Alessandria andremo là e vinceremo sicuramente lei ha tipo guardato come dire ma veramente mi stai facendo tradurre una roba del genere e le che ci ho messi a ridere insomma lui ha detto sì sì di così questo per dire che non è stata le cose che ha detto lui in realtà le ha rimarcate ecco anche anche con i gesti quindi lui è così insomma ormai lo conosciamo poi che debba a mio avviso contenere un po' ecco non esagerare secondo me sarebbe a beneficio di tutti della squadra delle pressioni anche perché non dimentichiamoci che non ha posto poca pressione su quello che sarà l'anno a venire perché costantemente anche nel post partita della cremonese ha ripetuto che comunque anche l'anno prossimo si parlerà di playoff e di serie A è un attimo aspetta però perché quel passaggio lì è quello che ha un po' acceso gli animi diciamo in termini di commenti cioè la gente dice forse dovrebbe smetterla di fare questo tipo di dichiarazioni perché anche quest'anno è stato un po' un divago ha detto partiamo è stagione di transizione siamo giovani dobbiamo crescere poi questa squadra vale i playoff e tutto il resto allora io capisco che lui lo faccia per spronare per per alzare per alzare il morale alzare l'asticella tutto quanto ma l'asticella la alzi diciamo probabilmente con la comunicazione interna non con la comunicazione esterna perché là fuori c'è un'opinione pubblica che se no come dire uno ti rinfaccia ciò che hai detto e due e viene a presentarti il conto se le cose non vanno come prevedi perché quest'anno ne ha detto già tre o quattro l'uomo e Clotet che diventerà la natura del Real Madrid in futuro e Sec che lo compra a Liverpool in tre anni e questo e quest'altro poi magari queste robe succedono però diciamo che la lista delle dichiarazioni un po' improvvide del presidente cominciano a essere numerose detto ciò però vorrei fare un inciso cioè che tanta gente ho letto ma anche gente che mi ha scritto con cui ho chiacchierato in questi giorni mi fa ma Tacopina rischia di farsi del male qua perché rischia di perdere la credibilità e il prossimo anno se non dovessimo andare in Serie A o fare i playoff verrebbe diciamo contestato comunque sarebbe in una posizione molto scomoda parliamone perché insomma di stagioni che sono cominciate con delle idee e poi sono proseguite con tutt'altro le ben viste diverse e poi perché non ci dobbiamo mai dimenticare che in assenza di Tacopina la SPAL chi l'avrebbe presa ok che questo è un discorso che facciamo da dieci proprietà a questa parte però insomma l'uomo si è preso un rischio io prendo la SPAL morisca notevole perché non è che ha preso la SPAL a un euro e ha messo dentro quello che serviva ha fatto il piano alla macchina ed è andata ha accettato di fare un anno nel quale dovevano abbattere una grossa mole di debiti quindi ci ha messo ha fatto una scommessa su se stesso sulle sue capacità su quelle dei suoi investitori che ancora non sappiamo chi siano e anche su questo prima o poi dovrà arrivare un po' di trasparenza a mio giudizio però mi sembra un po' prematuro fare questo tipo di valutazioni ecco proprio su questo tema Sovrani ha proprio chiesto direttamente l'ha fatta lui la domanda Sovrani è un tacco scettico Sovrani è un tacco scettico però mi sento di dire che lo è per il bene della SPAL Sovrani credo di essere no non è vero ha cominciato lui a fare le domande però alla fine gli ha chiesto ma chi sono i partner no ci sono novità sui partner eh vabbè comunque gli ha chiesto e lui ha ha detto non parliamo di questo è la stessa risposta che ha dato Sovrani stesso mi sembra la prima prima conferenza stampa in cui gli ha chiesto sì ok tu sei qui ma chi rappresenti e lui ha detto ci sarà tempo per capire forse Malaguti gli aveva chiesto quanti soldi c'erano c'erano sul piatto no e lui anche lì ha detto vabbè comunque siamo arrivati a tre quarti del campionato e per quanto ancora si parli di serie A di playoff di programmi futuri di investimenti di 74 milioni 75 che entrano in caso di serie A e quindi insomma si parla di quella roba lì ecco non si parla di vivacchiare in serie B o di star lì e vedere poi come va sono d'accordo con te assolutamente che serva urgentemente e immediatamente alla fine di quest'anno avere un'idea chiara perché poi oggettivamente se poi tutte queste cose messe in fila non si dovessero verificare l'anno prossimo le scuse sarebbero più complicate di trovare ma ho messo in sovraimpressione la domanda provocatore è importante sapere chi mette i soldi perché ho parlato con alcune persone diciamo che conoscono un po' un po' il mondo del calcio e un po' il mondo imprenditoriale e mi hanno detto ma non è necessario sapere dove prendi i soldi perché nel momento in cui ci sono le garanzie e arriva il cash è un problema relativo sapere chi lo sta mettendo chi non lo sta mettendo se lui lo porta a Ferrara a posto non c'è bisogno di un granché ma anche qua in un contesto in un contesto che viene da otto anni di colombarini quindi da una gestione familiare in cui i ruoli erano chiari e chi metteva la grana era abbastanza chiaro perché c'erano solo i colombarini in un contesto come Ferrara che viene da un'esperienza come questa e che è una città piccola e che ha un seguito limitato cioè è brutto da dire ma è così quante persone tifano SPAL in Italia non credo esistano stime accurate ma comunque la SPAL interessa a uno chi è a Ferrara due chi è in provincia di Ferrara tre chi è nelle immediate vicinanze della provincia di Ferrara o a chi se ne è andato o a una piccola percentuale di pazzi in senso buono che si sono innamorati della SPAL per una ragione arbitraria da quando erano bambini e hanno cominciato a seguirla quindi stiamo parlando dell'ordine delle decine di migliaia se va bene ecco credo che in un contesto così piccolo sia importante rendere conto però è per questo che questo dettaglio mi sembra non secondario sono un po' combattuto perché da un lato sono d'accordo con chi mi ha detto quella cosa che ti ho riferito poco fa dall'altra penso che fare Tacopina farebbe bene ad essere un pochino più trasparente è chiaro che se i suoi finanziatori gli chiedono di non esserlo non può esserlo è un argomento estremamente complicato e secondo me al momento noi inteso come non solo io e te ma probabilmente anche in società meno di non strettissimi collaboratori Tacopina se non Tacopina stesso sono informazioni ai quali solo pochissimi possono avere accesso noi non possiamo sapere i patti di segretezza di riservatezza che sono stati firmati come dici tu ci sono delle garanzie depositate e quindi questo bisogna che faccia stare tranquille le persone che hanno a cuore gli interessi della SPAL ma io orla dico verità io su tutto il resto alzo le mani cioè nel senso io non me la sento di rassicurare il fatto che Tacopina abbia effettivamente un gruppo di investitori in un'intervista che tu hai in maniera ottima tradotto non mi ricordo neanche da chi lui aveva detto che aveva anche una famiglia italiana alle insomma al suo fianco sì mi dispiace sotto un certo punto di vista che questo tipo di dichiarazioni vengono sempre fatte non in territorio nazionale questo è anche e soprattutto non locale perché qui gli sarebbe gli si sarebbe chiesto conto di questa informazione cosa che ancora non è stata fatta comunque io mi sento di dire che non siamo neanche orla nelle condizioni di fare un processo alle intenzioni no cioè nel senso lui ha detto che ci sono noi in questo momento dobbiamo basarci sui fatti i fatti dicono che lui è arrivato ha comprato la SPAL con dei soldi veri gli ha dati ai colombarini non una promessa li pagherò ma gli ha dati seriamente e probabilmente ci sta garantendo inteso come a noi popolo Spalino un futuro probabilmente migliore di quello che sarebbe potuto essere per la stessa missione di Simone Francesco anche qua da noi insomma qualche settimana fa con i colombarini punto tutto quello che deve arrivare dopo è lecito porsi le domande è lecito avere le ansie però direi con calma cioè vediamo un attimo che cosa succederà perché non è che possiamo giudicare prima che le robe succedano no? no per carità è solo che tutto è accaduto abbastanza in fretta è ora che la situazione presumibilmente si sta stabilizzando si va verso un'estate piena di novità e di propositi dal tournée negli Stati Uniti al ritiro non si sa dove al calciomercato che dovrebbe essere un calciomercato non dico di grandi spese ma un calciomercato che permetta di consolidare il lavoro fatto quest'anno e di crescere ancora di più questo tema secondo me tornerà prima o poi perché se quest'estate la Spaldo e se fare un altro mercato non così scoppiettante subito si dirà ah beh ma i soldi dove sono? quindi sono curioso di vedere come se la giocherà Tacopin perché comunque non dimentichiamo che già a gennaio ci sono stati dei sacrifici inaspettati sul fronte del settore giovanile che è un ambito nel quale Tacopina stesso ha detto di voler investire molto e sul quale fare affidamento per il futuro poi è anche vero che se uno va a guardare l'anno 18 sta facendo bene a avere i giocap due ragazzi del 2006 hanno firmato il contratto da professionisti che sono Simonetta e Antonciuk che sono due giocatori molto molto promettenti interessanti che sono già da un pezzetto nel milione delle grandi squadre quindi qualcosa si muove però sono curioso di vedere anch'io come si muoverà l'uomo Marcello dice a mio avviso l'errore di Tacopina è pensare che a Ferraro si voglia asseri a tutti i costi dovrei dire facciamo quello che riusciamo come dice con l'ombarino inizio la loro avventura poi magari con l'anno buono vai su l'importante è mantenere la B dice Massimo Bombaggi la primavera retrocesso sì non lo è matematicamente ma è come se lo fosse però Massimo la primavera è il punto d'arrivo del settore giovanile se mi dicono la primavera retrocede ma sotto la primavera c'è una generazione di ragazzi 2005 2006 2007 che sono molto molto forti e si riesce a mantenere a Ferrara il futuro è buono quindi quest'anno è andato tutto storto con la primavera per tutta una serie di ragioni che magari indagheremo magari quando avremo l'opportunità di fare anche un approfondimento col direttore Catellani del settore giovanile che insomma avevamo anche invitato tempo addietro capiremo l'annata è andata male ma la primavera è il punto d'arrivo se sotto ci sono dei ragazzi forti io sono moderatamente tranquillo bisogna vedere se la SPAL più che altro riesce a continuare a mantenere il livello che ha avuto fino all'anno scorso con il settore giovanile di reclutamento di scouting e tutto il resto questa è la sfida era molto alto molto alto nel senso che più osservatori hanno definito la SPAL uno dei primi dieci settori giovanili d'Italia bisogna riconoscere che Ruggero Lundiani e tutte le persone che hanno lavorato con lui dalla prima all'ultima hanno fatto un lavoro straordinario e vedremo secondo me i benefici per qualche anno di questo lavoro e questi benefici questi risultati non saranno minimamente intaccati saranno solo in minima parte intaccati da quello che è successo la primavera è chiaro che è una grossa delusione però ragazzi succede la stagione storta va così mi piace l'ultimo commento che è arrivato le americane gli americani gli ex americani ma in Italia già da abbastanza tempo sta copiando a sapere come funzionano le cose non penso sia sproveduta sotto questo punto di vista però Taccopina tra le altre cose chiuso il ragionamento che faceva Marcello non sono sicuro che Taccopina pensi che Ferrara vuole la a tutti i costi è chiaro che tre anni di Serie A ci hanno abituato bene è chiaro che la discesa del 2020 è stata orripilante e c'era anche un po' di senso di riscatto in quello che era il futuro però non sono così sicuro che sia una cosa che Taccopina fa per il pubblico di Ferrara che la faccia più per se stesso perché ovviamente stare in pareggio in Serie B è un po' un problema dal punto di vista economico ci si può riuscire ma devi lavorare molto bene per farlo stare in pareggio in Serie A ok non è facilissimo però c'è anche questo meccanismo del sali e poi becchi il paracadute quindi scendi hai comunque delle risorse credo che Taccopina lo faccia per se stesso non ci siano dubbi su questo è venuto da New York a Ferrara per non so per fare il benefattore non credo lui è venuto qui per fare chiare lettere lui l'ha detto è 50% passione 50% business se quel 50% di business ci mette dentro dei guadagni tanto meglio per lui comunque Taccopina al di là di tutto questo che noi abbiamo giustamente spezzettato e analizzato ogni sua parola ha anche parlato che queste sette partite dando la salvezza scontata per lui ripeto per me ancora non lo è però per lui lo è esatto dice che queste sette partite devono aspettare ha anche detto che è sicuro al 100% che la Spal vincerà ad Alessandri sì l'abbiamo detto prima quando la Bon non voleva tradurre questa cosa ha detto che queste sette partite serviranno a lui e ai giocatori a capire chi farà parte della Spal della prossima stagione e chi invece sarà ha detto qualcosa come tipo nelle nuvole ecco sì quindi chi di questi orla non dico al di là del fatto del merito perché uno se uno non avesse se avessi i soldi dello sceico come direbbe Francesco Colombarini sarebbe facile dire facciamo piazza pulita prendiamo tutta gente nuova però in realtà non funzionano così le cose ci sono dei contratti contratti sottoscritti alcuni anche lunghi al di là di Murgia che ricordiamo sempre però ce ne sono tanti altri invece ce ne sono tanti altri in scadenza quindi va capito quale sarà il punto di equilibrio dell'anno prossimo intanto perché la Spal dovrà essere per bocca di Tacopino una squadra più competitiva una squadra che punta il playoff quest'anno la Spal non si trova in quella posizione perché è stata sfortunata si trova in quella posizione perché grosso modo tolti quei due o tre giocatori come vediamo merita quella posizione lì cioè io io la vedo così quindi se l'anno prossimo si vorranno avere ambizioni migliori maggiori la Spal dovrà avere anche giocatori migliori ecco quindi questo è sì allora proviamo a fare una cosa stai provando a condividere sì volevo condividere un contenuto nel frattempo che tu provi a condividere il contenuto diciamo che in scadenza i contratti a scadenza a giugno 2022 volevo fare il lavoro qua proprio sono Pomini Mora e Rossi questi qua diciamo che io mi sento di dire ora non so cosa ne pensi te che al 99% non li vedremo con la maglia della spada Rossi perché comunque è stata una scommessa di Tagopina e vabbè Pomini perché si spera che i direttori sportivi vienano le idee un po' più chiare se cosa vogliono fare con la porta perché quest'anno non è andata proprio bene e Mora perché per quanto il ritorno dal punto di vista del cuore sia stato positivo insomma tutto sommato dal punto di vista tecnico non ha dato un grandissimo apporto allora qua a video si dovrebbero vedere e dunque orla zooma un po' perché credo che chi guarda la cosa dal telefono ecco eccole qua allora come hai detto non ho cercato adesso si dovrebbe vedere un po' meglio allora abbiamo Pomini, Mora e Rossi che come hai detto tu sono a scadenza è verosimile che solo uno dei tre possa rimanere e ti lascio indaginare chi Rossi perché l'uomo del presidente immagino bravissimo poi degli altri le scadenze dei dei prestiti anche qua bisogna fare delle distinzioni perché Tripaldelli per esempio è un prestito con obbligo quindi è già della SPAL e verrà messo sotto contratto se non ricordo male fino al 2024 poi Capradossi c'è un diritto di riscatto ma è un po' altino non lo so se la SPAL vorrà andare a spendere dei soldi Aidenreich in prestito Crociata in prestito c'è un diritto di riscatto ma mi viene da pensare che non venga esercitato e poi Dariva Ellerson Latelat Colombo Melchiorri Pinato e Vido Melchiorri dovrebbe andare a scadenza col Perugia o forse allungato di un anno prima di venire via ma insomma se tu chiedi al Perugia di dartelo probabilmente te lo dà e Vido mi ricordo che se non mi ricordo più se Zamun era Tarantino al giorno della presentazione aveva detto sì Vido non abbiamo fatto accordi con l'Atalanta nel senso che magari a fine stagione ne riparliamo poi vediamo come va insomma ci può anche stare però allora mettiamo pure che non venga riscattato nessuno di questi o non torni nessuno di questi vuol dire che hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 ti è anche Pinato altro giocatore sul quale a Spalvo vorrà fare un ragionamento insieme a Sassuolo 10 giocatori il cui futuro è nebuloso mettiamola così oltre ai 3 in scadenza mettiamo 2 in scadenza perché Pomini e Mora probabilmente verranno lasciati andare Rossi se mi viene mi viene a dire che magari la coppina gli darà un'altra opportunità 12 giocatori nuovi da prendere in tanto poi ci sono i 2023 che sono giocatori che entrano nel prossimo campionato con un solo anno di contratto e sappiamo tutti che è una situazione non ideale per un calciatore soprattutto se un calciatore magari non sta brillando proprio in maniera esagerata però hanno situazioni diverse perché se vediamo al di là di Galeotti portiere vabbè sui portieri ci faremo un ragionamento Meccariello è appena arrivato quindi Meccariello l'anno prossimo c'è ma sì certo certo poi Peda anche lui sta facendo bene stai parlando di 2024 tu però io ti dico ah sì sui 2023 sì sì tipo Tiam vabbè Alfonso è arrivato quest'anno immagino che non da nessuna parte vabbè Meneghetti è un po' disperso Vicari per esempio è un tema lo stesso Almici che è arrivato cosa ha combinato niente Spaltro che è andato in prestito Viviani che guadagna tantissimi soldi Esposito che non sta rispondendo alle aspettative Zuculini che si è diffuso la voce che avesse resciso ma era una bufala Abù non stiamo lì a infierire Finotto Difra perché bisogna vedere se Lempoli decide di riscattarlo penso di sì ma non c'è di scontato e vabbè Mancosu che però penso sia ancora al centro del progetto in questo gruppetto qua Leo io intravedo molti giocatori della categoria a cui facevi riferimento da Coppina c'è giocatori che forse devono sfruttare queste ultime 6-7 partite per guadagnarsi la fiducia per il prossimo anno iniziare la stagione con un giocatore che va a scadenza a fine stagione è abbastanza pericoloso perché metti che ti faccia 6 mesi benissimo e tu non hai esteso il contratto poi lo perdi a zero però due giocatori due nomi su tutti Vicari ed Esposito Vicari ed Esposito si trovano di fronte a un bivio a luglio ad agosto perché da un lato probabilmente hanno piacere a rimanere a Ferrara mi viene da pensare dall'altro però non lo so non lo so non ho dati su questo però dall'altro possono anche dire beh però un anno solo di contratto il prossimo estate devo trovarmi squadra chissà come va come non va quindi è lì che forse Tacopina vorrà provare a usare un po' di potere contrattuale mettiamolo così per magari cercare di incoraggiare alcuni giocatori non sto dicendo sia il caso di Vicari di Esposito ma magari dire guarda che comunque qua non ti rinnoviamo il contratto quindi se vuoi rimanere va bene però se vuoi ragionare sul lungo termine magari fai una scelta diversa quindi penso si riferisse soprattutto a questi casi e lo stesso varrà anche per Viviani per motivi diversi però credo che in qualche modo sì Viviani secondo me l'unico problema è quello dell'ingaggio perché con Viviani potrebbero anche sederci al tavolo e dire senti Federico allunghi il contratto i due anni così spalmiamo come fecero con Missiroli l'anno scorso praticamente prima che poi venisse abbandonato al suo destino e quindi sarà interessante vedere questo e poi vedevo Carlo no aspetta Carlo dice in situazioni rientri l'esempio di purtroppo Murgia eh sì Murgia fa parte di quei contratti 2024 che Leo stava elencando diciamo quelli di 2024 sono tranquilli però anche qua vabbè Galeotti sta facendo molto bene per golettese in Serie C può anche può anche aver senso tenerlo come terzo portiere immagino ehm al posto di Pomini che ha vent'anni in più eh Meccariello va bene Peda spero proprio rimanga perché potrebbe fare definitivo salto di qualità vabbè Pabai abbiamo visto che è un giocatore come dire non lo so non sono sicuro che possa tornare utile Celia in teoria sì Iabre penso verrà spedito in prestito Zanellato che è stato appena comprato Dorazio su cui dovremmo aprire probabilmente una parentesi ma siamo già avanti con la diretta e Murgia che oggettivamente sarà un problema perché ti torna un giocatore ha altri due anni di contratto e dove va beh su Dorazio la parentesi la possiamo aprire in maniera molto veloce anche perché non è che ci sia neanche da dire cioè nel senso per adesso ha fatto due partite a titolare più qualche altro minuto giocato qua e là pochi mi sento di dire che non ha sfruttato di certo l'occasione che gli ha avventurato perché in una partita metti che avesse anche l'attenuante sto parlando della precedente ovviamente perché Colombo si era fatto un po' fuori e quindi cambia il piano partita cambiano le mansioni che devono avere i giocatori tra l'altro è stato espulso un attaccante lui era un trequartista quindi doveva fare forse qualcosa che non era nelle sue corde ma contro la Cremonese no cioè contro la Cremonese non è imbroccata a mezzo non ne ha presa una non ne ha presa una cioè ma neanche per sbaglio e effettivamente ci si è chiesti se la Serie B non fosse un vestito un po' troppo largo per lui in questo momento e quindi forse orla anche alla luce delle possibilità che gli sono state date mi sento di dire che Dorazio l'anno prossimo gli verrà trovata una sistemazione diversa perché non credo che possa stare in una squadra che lotta per andare in Serie A ma chi l'ha detto che ha spallotto in Italia in Serie A il prossimo anno la Coppina sì vabbè ma da qui a stabilire l'obiettivo io aspetterei un attimo di vedere chi prende però se l'obiettivo è quello cioè voglio dire l'obiettivo è quello nella sua testa poi nei fatti dobbiamo vedere però vabbè tralasciando questo aspetto di cui parleremo da qui a giugno probabilmente Sergio ci chiede ma con Murgia come funziona se torna funziona che gli devi pagare lo stipendio Sergio questo sarà il problema più grosso del calciomercato di quest'estate perché la Spal sta pagando uno stipendio esagerato a Murgia ed è un giocatore che è stato mandato a Perugia nella speranza che potesse rimettersi in careggiata giocare acquisire di nuovo valore e invece è successo l'esatto contrario non gioca mai anche se è sano non gioca mai e sta ulteriormente perdendo valore ormai chi è che ti chiama per prendere Murgia perché ti dovrebbe chiamare una squadra per prendere Murgia per dargli tutti quei soldi a che pro non ha nessun senso e infatti il problema sarà tutto lì Pasquale dice bisogna sperare che Murgia faccia come vi viene ciao Pasquale il problema è che Viviani ha fatto quello che ha fatto perché ha avuto una marea di problemi fisici e quindi non ha potuto giocare ma Murgia potrebbe giocare è solo che l'allenatore del Perugia sceglie di non farlo giocare mai se non per quei dieci minuti di Perugia spalla in cui puntualmente poi la spalla ha fatto gol non voglio dire che ci sia un nesso di casualità tra le due cose però intanto è successo così la Lazio che saltò Gaindré sì magari ma la Lazio ormai ha incassato i soldoni Giacomo ci dice ma intanto lo stipendio lo sta pagando il Perugia o sempre la spalla no lo sta pagando in larga parte la spalla solo una piccola parte è a carico del Perugia quindi sì quello di Murgia rischia di essere un tema ricorrente mi viene da dire Leo andrà che verrà aggregato il ritiro perché comunque contrattualmente è obbligato a presentarvi sì e poi si vedrà cosa dirà Venturato beh se Venturato dice oh il ragazzo è a posto è motivato può far parte di questa squadra allora resterà in squadra a meno che non arrivi qualcuno a dire lo compro però credo che sia necessario fare un'operazione di rivalorizzazione qui in casa cioè dire ok fa sei mesi qui a Ferrara e magari fa bene e a gennaio arriva qualcuno a dire vabbè dai lo prendo io ma non è mica scontato no no neanche un po' neanche un po' non solo non è scontato non è neanche detto che possa succedere una cosa del genere che ci siano le condizioni perché questa cosa succeda perché Viviani nell'intervista che tu gli hai fatto nella newsletter che ricordiamo a tutti quelli che ci stanno seguendo di iscriversi alla newsletter ha comunque spiegato che il il suo cambiamento è stato frutto anche di un cambiamento personale con delle persone che lo hanno aiutato anche dal punto di vista psicologico insomma e quindi oltre che fisico e quindi lui l'ha fatto ma non è mica detto che questa cosa solo perché è successa a Viviani può succedere anche a Murgia anzi allora il tema Murgia vedo che sta attraendo commenti un team di mental coach l'abbiamo detto anche altre volte Murgia è seguito da una mental coach che è la stessa mental coach di Marcel Jacobs il campione olimpico di 100 metri quindi non una professionista esattamente presa per la strada forse anche i mental coach non bastano Mirko ci chiede quanto prende Murgia allora secondo le informazioni che abbiamo a disposizione dovrebbe prendere all'incirca 600 mila euro che è una cifra colossale 600-700 una roba così comunque una marea di soldi e questo mi porta a commentare ciò che ci chiede Alessio una recessione possibile no perché allora i casi sono due cioè no anzi il caso è uno solo una recessione possibile se Murgia si presentisse e dice sentite dovete darmi un milione e due netto da qui al 2024 ma sapete cosa io ve lo lascio e vado a cercarmi una squadra un calciatore ha mai fatto una cosa così nella storia del calcio che io ricordo in memoria no e quindi non succederà anche perché la Spal non può fare una risoluzione unilaterale perché dovrebbe versare tutto fino all'ultimo centesimo ma ci ricordiamo come si è lasciato Murgia con la Spal cioè a parte tutto piuttosto male cioè non è che è un giocatore infortunato che dice guardate sono sempre rotto facciamo che per così vi lascio dei soldi e io vado via cioè non è andata così è stato insultato pesantemente anche personalmente e poi è stato venduto l'ultimo giorno di mercato lo scambio con Melchior insomma non è che non so non la vedo così così rosa la situazione allora poi c'era un altro commento sempre sul discorso di Murgia Andrea dice Venturato lo rivalorizzerà anche se Viviani sembra disperso perché lo ha detto l'ha resuscitato sì però come dicevo prima sono due storie diverse sono due storie diverse perché Viviani non ha avuto probabilmente la possibilità di riscattarsi prima e Murgia ce l'aveva e non ha mai dimostrato niente anche la scorsa stagione boh lo vedevi in campo dicevi ma cosa sta facendo comunque ho l'idea che di Murgia parleremo in maniera ultra approfondita nelle prossime dirette dal 30 giugno in poi dovremo parlarne spesso non so non so se faremo le dirette quest'estate chi lo sa boh magari se troviamo uno sponsor le facciamo da un baretto sulla spiaggia chi lo sa allora Marco però dice è arrivato in permute nell'affare Lazzari ha valutato 5 milioni cioè per per la mano e la spalla ha incassato 10 più questo bidone abbiamo regalato Lazzari vabbè allora non è andata proprio così nel senso che se non ricordo male Lazzari la vendita era 14 però c'erano anche diversi bonus che poi sono effettivamente scattati quindi c'è i conti della servo un po' così non tornano poi la spalla poteva venderlo di più Lazzari sì probabilmente ma è anche vero che per esempio è venuto Fares a 9 qualcosa e Fares oggi vale 3 comunque è semplice quello è stato un errore grosso pesantissimo di valutazione di Vagnatti quello di fare il contratto a Murgia fino a sempre praticamente ha incontrato tempo indeterminato è stato un errore di valutazione di Vagnatti dai insomma c'è poco da fare è stato un errore che la SPAL continuerà a pagare l'ultimo per fortuna perché dopo insomma si è resi conto che quello poi quella sbalangata di milioni per buoni infatti nonostante fossero sotto i spesi per provare a mantenere la categoria in maniera disperata della serie A però comunque i colombarini stessi poi gli hanno detto che qualora fossero tornati dietro non avrebbero mai più fatto ecco tanto un errore basta va bene dirette dagli state ci dicono a luglio magari vediamo cosa succede ma per oggi per oggi siamo a posto dai Leo abbiamo parlato 53 minuti direi che è abbastanza allora ricordo a tutti che la newsletter basta cercare lo spallino newsletter su google trovate tutto quello che c'è da trovare e siamo arrivati a un bel po' di iscritti la settimana scorsa come vi viene abbiamo guadagnato quasi 100 nuovi iscritti quindi grazie a tutti e ora sto pensando che qualora andassimo veramente negli states a fare la a seguire la spallino ritiro noi la diretta la facciamo però vogliamo vedere qua chi ci ha collegato a quell'ora perché dopo vogliamo anche che Buzzo sia bello pimpante a quell'ora via è noi che ci dobbiamo collegare tipo alle 4 del pomeriggio per fare la diretta 9 di sede in Italia non è che possiamo trasmettere in Italia la notte fonda beh insomma vediamo cosa succederà domanda in extremis di Gianluca dice cambiare argomento non pensate che porti sfiga il nuovo ingresso in campo della squadra con quella mesta passerella sotto la curva in cui i giocatori non devono nemmeno di uno sguardo di tifosi e camminano una testa bassa allora io non credo nelle cose che portano sfiga o non portano sfiga sinceramente quindi questo no che sia come dire esteticamente discutibile su quello mi sento di darti darti ragione se poi i tifosi non guardano se poi i giocatori non guardano i tifosi è un problema loro cioè io se entrassi in campo come prima cosa guarderei quanta gente c'è in curva però è una questione poi di personalità di preferenze tutte queste cose qua va bene ora direi che siamo arrivati a chiusura anche oggi con 55 minuti comunque mercoledì prossimo siamo in pre partita di Alessandria Spal e all'andata Fabio Artico ci aveva fatto una promessa quindi non lo so quasi quasi mi ricordo Fabio Artico ma non mi ricordo assolutamente cosa ci aveva promesso no ci aveva promesso se vinciamo all'andata vengo a fare la diretta anche a ritorno e quindi all'andata purtroppo per la spazia l'Alessandria vinse quindi potremmo anche richiamarlo anche perché l'Alessandria non vince da 11 partite magari lui stesso se è scaramantico potrebbe ritenere che questa possa essere una buona idea però vabbè Orla ti segnalo che Buzzo mi ha scritto privatamente dicendomi non fare il furbo ci sarò mi sveglia alle 4 per andare al lavoro quindi in qualche modo hai riuscito a vedere la diretta no ma vederla la vedi non poteva commentarla perché era bloccato non può commentare va bene Orla grazie per la diretta grazie a tutti quelli che ci hanno seguito ci rivediamo mercoledì prossimo forse con qualcuno forse no vediamo cosa cosa riusciremo a fare vediamo cosa riusciamo a fare perché con gli ospiti è sempre un po' un casino non c'è più il coprifuoco quindi è molto più difficile tirare dentro la gente quindi grazie a tutti chi ci guarderà in differita domani e alla prossima ciao 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 buonanotte